Salve amiche e amici. Grazie per la live di ieri, siete stati davvero tanto numerosi, vi ringrazio tantissimo per i commenti, per l'apprezzamento. Ieri abbiamo avuto, come sapete, un ospite davvero importante, è stata Maria Mikoyan, che ringrazio veramente per la sua testimonianza di cittadina russa, poi trasferitasi in Italia e del Comitato per i russi liberi. Il suo impegno nella zona di Milano è molto importante proprio per portare le testimonianze di chi ha vissuto in quei posti e l'associazione non solo appunto parla della repressione contro la libertà dei russi, ma appunto coinvolge anche persone che vengono dalla Georgia e dall'Ucraina, ovviamente. Siamo rimasti in contatti, ci stiamo già organizzando per le prossime live dove avremo altri ospiti, quindi vi terrò aggiornati. Nel frattempo vi ringrazio anche per alcune mail che sto ricevendo, ringrazio in particolare il signor Tonino che mi parla del fatto che in Romania le cose stanno peggiorando, soprattutto in virtù delle elezioni, a quanto pare ci sono importanti sviluppi e cercherò di portarvi dei contenuti che ne parlano proprio domani. Quindi iniziamo. Oggi alcune notizie buone, altre notizie meno buone. Apro con le dichiarazioni di Antony Blinken al G7 dove diceva l'Ucraina sta combattendo per noi, non sta combattendo solo per se stessa. Il motivo per cui così tanti paesi sono coinvolti nella difesa dell'Ucraina è perché l'aggressione commessa dalla Russia non è solo un'aggressione contro l'Ucraina e il suo popolo, è un'aggressione contro i principi stessi che sono al centro del sistema internazionale e che sono necessari per cercare di mantenere la pace e la stabilità. Queste sono state le sue parole in sintesi e penso che siano molto condivisibili. Parliamo poi della situazione per quanto riguarda i continui attacchi missilistici e dronici che sono avvenuti in questi giorni. L'Ucraina è oggetto di questi attacchi continui da parte russa che cercano di minarne le infrastrutture energetiche e spesso, come sappiamo, finiscono anche su edifici civili. Una notizia che vi porto oggi, che viene trasmessa in particolare dal giornale Le Monde, Francese, è che a quanto pare i droni Shahed spesso vengono addirittura dirottati dalle capacità di guerra elettronica ucraina. Questi sistemi riescono a giammare il sistema di navigazione satellitare di questi droni. Il risultato è che qualche volta questi oggetti vengono dirottati verso la Bielorussia e la Russia, quindi è un'ottima notizia. Quando si dice il karma, no. Passiamo poi alle dichiarazioni di Sirsky, comandante delle forze in capo ucraine. Ha fatto delle dichiarazioni in cui afferma che la vittoria è impossibile se le forze armate ucraine lavorano solo sulla difensiva. Devono prendere l'iniziativa e contrattaccare. Penso che abbia senso, se parliamo almeno da un punto di vista militare, perché, come si dice, non è tanto un luogo comune. La migliore difesa è l'attacco. Questo è fondamentale, altrimenti continueremo a vedere gli ucraini ritirarsi dai propri territori con la Russia che se ne frega delle perdite subite. È chiaro che la situazione è un po' più complicata di così, non è solo una questione di difesa o di attacco. Bisogna vedere poi come è la conformazione del terreno, la presenza di difese, perché queste, l'orografia del terreno, le elevazioni, così come le trincee, hanno un importante scopo, ruolo tattico nei progressi di un esercito, dove appunto certe posizioni possono essere difese per più tempo o fungere da testa di ponte. Una cosa che mi ha fatto specie mentre cercavo notizie oggi, e fra l'altro mi sono imbattuto anche in questa dichiarazione, che come ve l'ho riportata dalle sue parole, che sono piuttosto condivisibili e ovvie, poi ovviamente c'è una marea di disinformatori e propagandisti che lavorano per la Russia, e fra questi purtroppo ce ne sono tanti anche italiani. Ora non sto parlando dei casi più famosi, quelli che finiscono in televisione, sto parlando di letteralmente un esercito di impostori o disinformatori che hanno account italiani e su X sistematicamente non fanno altro che prendere le notizie ufficiali e rigirarle come vogliono, facendosi beffe di una popolazione che sta soffrendo un'invasione, il che è vergognoso. Magari un giorno dedicherò un intero video a questi soggetti per capire perché esistono soprattutto. Andiamo avanti. Allora, una notizia positiva del giorno che arriva da parte anche di Zelensky, ma in particolare dalla voce del gruppo operativo Cortoisia di Nazar Volishin, ha confermato che le forze ucraine hanno respinto le truppe russe da Kupiansk nella regione di Kharkiv. Quest'area si trova a est dell'Ucraina, in questa zona qui, quindi nord-est, e in particolare, come vedete, questa è Kharkiv e qui abbiamo Kupiansk. Nei giorni scorsi avevo parlato di questa incursione che era avvenuta, che era molto surreale da parte russa, dove c'era stato un convoglio russo che a rotta di collo a tutta velocità era riuscito a percorrere questa strada tutta dritta arrivando fino al centro. I mezzi russi sono stati poi distrutti, ma i soldati non riusciti a disperdersi in tutta quest'area centrale. Quindi le notizie di oggi sono che queste unità russe sono state spente, diciamo così, e la città è libera, nel senso la città adesso non è più occupata dai russi. La stessa informazione la possiamo a delle corrispondenze sulla mappa di Deep State. Come vedete, questa è aggiornata a ieri. Se scorriamo indietro di qualche giorno vediamo questa propagine, questa estensione russa lungo la strada. Vedete, era fino al 23, è iniziata il 12, la loro progressione, il 13, è successo quello che vi ho appena raccontato, il loro controllo su queste aree è durato per circa una settimana e poi il 25 è stato spento, quindi è stato aggiornato anche sulla mappa di Deep State. Poi, altra notizia interessante di oggi è che a quanto pare uno sciame di droni, missili Neptune e missili da crociera non identificati, hanno raggiunto la Crimea, quindi è stato un attacco da parte ucraino. In particolare hanno raggiunto l'aeroporto di Belbek presso Sevastopoli. Si parla di quest'area, zoomo indietro così vediamo dove stiamo, sud, sud-ovest della Crimea, per l'aeroporto militare di Belbek. Come vedete, questa è una mappa satellitare di Google Maps di due anni fa, quindi non è aggiornata, ma sull'aeroporto erano presenti tantissimi Sukhoi 27, Sukhoi 30, ce n'è tanti, ma proprio tanti, più anche alcuni MiG 29, li vediamo qui, L39 addirittura, vabbè. Non ci sono fotografie aggiornate, l'ultima spazzata di Sentinel 2, vediamo se si aggiorna, l'ultimo passaggio di Sentinel 2 è di qualche giorno fa, vediamo se riesco a mostrarvelo, eccolo, è il 16, perché poi tutta la situazione è rimasta molto coperta, come vi dicevo anche nei giorni precedenti, è difficile fare... ah no, questo è il 26, quindi ieri. Ancora ieri, questa immagine ve la mostro giusto per capire se sull'area erano presenti dei bersagli interessanti da colpire, e ci sono, perché come vedete, tutta la pron centrale, così come veniva mostrato nella immagine di Google Maps, è ancora, ancora pieno di aeroplani. Ora, vedremo se qualcuno di questi oggetti è passato, perché da parte russa dicono che sono stati tutti intercettati, bla bla bla, quindi vedete, insomma, che sono tanti e vedremo, appunto, nelle immagini dei giorni che verranno, se ci sono dei danni sull'aeroporto, se i aerei sono stati colpiti o meno. Andiamo avanti, aggiornamenti per quanto riguarda il fronte, allora, nell'area di Kursk ci sono stati i combattimenti in tutta l'area nord e nord-ovest, come vedete le icone parlano, insomma, il 25, qui un'intera unità russa è stata distrutta, ai redosso di quest'area boschiva, attacchi il 25 aviotrasportati, mezzi russi distrutti, anche gli ucraini hanno perso il 22, hanno perso dei bpm, poi lungo la strada principale della direttiva di assalto principale russa c'è stata un'enorme distruzione di mezzi e uomini, come potete vedere questi sono carri armati distrutti il 26, questo è successo ieri, tutti questi sono video geolocalizzati di una sistematica demolizione di mezzi e uomini, qui ci sono truppe in contatto, insomma qui nella zona nord, nella zona ovest della regione di Kursk si sta combattendo, nelle altre aree è molto più tranquillo, l'unica cosa che si segnala è per esempio ieri c'è stato un attacco aereo ucraino nelle posizioni russe nell'area di Telkino, come potete vedere. Altrove non ci sono grossi cambiamenti, giusto a Vojtsk ci sono state delle perdite da parte russa, il 27 l'ultimo stamattina, un mezzo proprio nell'area boschiva che vedete qui a ridosso nell'area nord-est di Vojtsk. Passiamo oltre, come vi ho detto, vi ho già anticipato quello che viene riportato nell'area di Kupiask, nessun progresso, altrove non ci sono grossi cambiamenti, qualche combattimento, l'azione di artiglieria, questo è successo ieri da parte ucraina, presso Chasivyar, un piccolo progresso nelle posizioni russe in quest'area, qui, anche se qui ci sono i rapporti in cui il 24 hanno perso dei mezzi. Presso Toresk non ci sono cambiamenti significativi, l'ultimo avanzamento russo in questi quartieri è datato 25. Verso Pokrovsk situazione rimasta invariata, qui ci sono dei crimini di guerra riportati, che non capisco onestamente, penso che sia proprio una questione di odio e basta, perché fra l'altro non conviene proprio ai russi fare crimini di guerra, se non catturano i prigionieri ucraini non possono chiedere scambi di prigionieri. Allora, a sud invece la situazione, come sappiamo, è piuttosto drammatica, ci sono stati dei progressi da parte russa nella zona settentrionale della città, sulla sponda settentrionale, come potete vedere, hanno occupato questi quartieri, giusto il 26 e il 27 stamattina erano presenti posizionando una bandiera proprio stamattina presso questi edifici, edifici, sono delle casette, delle capanne, ecco, meglio dire capanne. Mentre l'area più a est della città, questo il 26 è l'ultima zona occupata dai russi, quindi sì, questa è la situazione. Più a sud, altra situazione molto drammatica, con un'avanzata di carri armati russi, combattimenti, qualche mezzo lo hanno perso. In queste ore si sta parlando di una ritirata ucraina in questo settore per evitare di essere chiusi in una sacca. Questi sono gli aggiornamenti dal fronte, non ci sono altre cose importanti da dire. Allora, mi collego poi a una pagina pubblicata oggi da Vladislav Maestrov, che saluto con affetto, è stato nostro ospite tre giorni fa, proprio domenica. Vladislav, giornalista, Vladislav è un giornalista ucraino che vive a Kiev. Fra l'altro oggi ha postato questa immagine, che era una vignetta russa, umoristica, di 32 anni, in cui c'è un uomo che sta bruciando 100 rubli per fare luce e dice alla folla, il mio dollaro deve essere caduto qui. Oggi un dollaro vale oltre 108 rubli, scrive Vladislav. Il primo gennaio 2022 valeva 27 rubli. Quindi l'inflazione si è triplica, più che triplicata, direi. E questo è un dato che devo correggere, caro Vladislav, perché non sono 108, ma 110,13 attualmente. Il valore di un dollaro è di 110,13 rubli. Ora, di questo fra l'altro ne parlavo anche con Maria nella live di ieri, nel senso, è chiaro che è un dato assolutamente devastante per come lo vediamo noi, nelle nostre economie che dipendono tantissimo dagli scambi internazionali. Per il cittadino comune russo questo non ha importanza, perché non comprano le patate e il burro in dollari, le comprano in rubli. E come sappiamo il governo russo continua a distribuire soldi che si stampa tranquillamente. E vuoi perché il cugino, lo zio, il parente, l'amico ci ha lasciato le penne in guerra e quindi manda soldi a casa in questa forma, comunque a qualcuno i soldi arrivano a pioggia e possono spenderli. Quindi per la persona comune è il gruzzoletto che porti in tasca quello che conta. Quindi questi effetti li potremo vedere sul lungo termine, evidentemente, se parliamo almeno di devastazione economica, di crollo dell'economia russa. Ma come quello che ho appena descritto non avviene sempre, perché questo per esempio è un veterano che vive come un barbone dopo essere tornato dal fronte e parla di una situazione drammatica in cui dice che i trattamenti medici non ci sono, è stato dismesso dall'ospedale in fretta e furia e dopo tre mesi dal suo ritorno ancora non ha visto un soldo. Di questo fra l'altro ne ha parlato anche l'avvocato Francesco Catania che colgo l'occasione per salutare, in cui diceva che giustamente per il governo russo c'è tutto l'interesse di posticipare i pagamenti. Questo è quello che sta succedendo Bene, e per oggi è tutto. Mi raccomando, come sempre, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace. Qui sotto al video trovate tutti i pulsantini per sostenermi, fare una donazione, abbonarvi meglio, sarebbe anche più gradito E niente, un abbraccio, alla prossima